Salve a tutti quanti ragazzi e cazzori, benvenuti in questo nuovo video, salve sono Stefano Parma, benvenuti in questo nuovo video, allora siamo qui nella parte extra e collezionale di Division 2, l'ultimo credito di Kelso, agente Kelso Siamo in territorio precisamente in barri, il che si riesca a dare in modo che non faccia niente raggiungibile, perché sono in territorio stile? Non sono, l'alluvione ha fatto un bel po' di barri, soprattutto sotto terra, ed è lì che si trovano molte delle nostre infrastrutture, pensi che l'alluvione abbia buttato giù la rete? Assolutamente no, è stato un atto doloroso Grazie a tutti Grazie a tutti Parametri vitali assenti Grazie a tutti Grazie a tutti